Quando ho detto che questa forma, se io la metto in Re, può essere chiamata anche questa allo stesso modo, anche questo effettivamente è un Re con la quinta bemolle, la quinta bemolle però non è più al basso, è nella nota più acuta, no, undicesima diesis o quinta bemolle, sono accordi enarmonici. E effettivamente se noi pensiamo a un La bemolle come primo, è un La bemolle che ha il Re al basso o la undicesima diesis al basso o la quinta bemolle al basso perché sono intervalli enarmonici, quindi anche questo, questi due accordi sono uguali e risolvono allo stesso modo. o così, o così, un semitono sotto oppure una quinta giusta sotto, ok? Quindi la dominante dalla dominante può essere intercalata da questo sub 5, questa è la cosa molto comune. Grazie a tutti.